Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light e in questo video vi mostro come creare il proprio e-commerce personale in maniera gratuita e semplice. Prima di iniziare, che cos'è un e-commerce, ragazzi, è semplicemente un negozio di vendita online dove noi decidiamo che cosa vendere. Infatti è possibile farlo anche con prodotti digitali. Esempio se vendiamo il nostro account di Fortnite eccetera eccetera o comunque roba del genere o se vendiamo dei ritratti da stampare o altri esempi possono essere delle cose dei nostri talenti che sappiamo fare a distanza. Ad esempio se offriamo anche dei servizi di editing ad altre persone che cercano qualcuno che gli possa editare i video. Quindi in pratica noi offriamo agli altri dei servizi che loro se vogliono acquisteranno. Quindi andremo a creare un negozio online nostro personale dove la gente può acquistare i nostri servizi. Come funziona? Vi lascio il link in descrizione sotto questo video dove noi per andare a creare il nostro e-commerce dobbiamo semplicemente cliccare su start selling ai margini dello schermo. A questo punto ci registriamo, possiamo anche connetterci con Facebook, Twitter o Stripe oppure manualmente in basso inserendo la nostra email e una password per creare l'account. Io utilizzo il metodo manuale quindi inserisco email e password. Perfetto! Una volta dentro per vendere il nostro articolo o i nostri articoli dobbiamo andare su products e cliccare su new product. Come potete intuire la lingua del sito è in inglese, però è molto intuitiva. Se avete dei problemi con la lingua vi basterà tradurre la pagina facendo un tasto destro traduci in italiano. A questo punto ragazzi qui diamo un nome del prodotto che vogliamo vendere o del servizio. Come potete vedere nelle categorie volendo possiamo oltre a vendere prodotti digitali anche vendere dei tutorial o dei corsi per aiutare gente con i nostri video o comunque le nostre lezioni. Anche vendere e offrire libri digitali e tutto il resto. E' anche possibile vendere un bene fisico quindi un oggetto materiale e tangibile come può essere un libro, un orologio, un pupazzo, roba del genere che poi ovviamente va spedita al cliente. Ma noi ragazzi facciamoci furbi nel senso che vendere un prodotto digitale è meglio perché così non abbiamo da pagare i costi della spedizione di un pacco fisico tangibile. Quindi decidiamo magari di vendere un prodotto digitale, come nome del prodotto impostiamo quello che noi vogliamo offrire agli altri. Io ad esempio oltre a creare i video su YouTube sono anche molto brava a leggere le carte. Quindi che cosa vado ad offrire su questo sito? Una lettura di carte. Voi potete anche aggiungere un talento che avete, come vi dicevo all'inizio di questo video, vendere ritratti digitali, vendere servizi di editing ad altri, editing foto, editing video, migliorare la qualità delle immagini, insomma inserite un vostro talento. Io offro una lettura di carte e quindi scriverò cartomanzia che è il termine adatto. Dopodiché in basso impostiamo il prezzo, ovviamente noi togliamo la valuta del dollaro e impostiamo l'euro. Inseriamo quindi il nostro prezzo e il costo del nostro servizio e a quanto lo vendiamo. E una volta fatto andate in alto e cliccate su successivo personalizza. Se lo avete in inglese dovreste ritrovarvi su next customize. A questo punto qui inseriamo una descrizione del servizio che vendiamo. Io scrivo salve virgola offro una lettura di carte approfondita per passato, presente e futuro. Quindi dovete dare una breve spiegazione di che cosa state offrendo e di che cosa siete capaci a fare. Poi andate in basso dove c'è scritto cover cliccate su upload image or video. Qui ragazzi vi consiglio di cliccare su unsplash anche se volendo potete caricare le immagini come sfondo da dare al servizio che state offrendo. Solo che questo può essere molto limitato perché dovete inviare immagini che hanno una risoluzione specifica. Siccome io non mi ricordo adesso la dimensione da inserire preferisco cliccare su unsplash. Che cosa vuol dire? Che attraverso una parola che io inserisco nella barra di ricerca mi troverà il sito stesso un'immagine che si adatti a quello che io sto offrendo. Quindi inserisco la parola in inglese, mi raccomando è importante per trovare le immagini perché in italiano non riesce a riconoscerle. Clicco sull'immagine che mi piace di più, ce ne sono veramente tantissime. Ci cliccate, andate in basso. Inseriamo anche una thumbnail, quindi una copertina, un'immagine di profilo, sempre su upload file unsplash. Oppure se avete una vostra immagine deve essere di 600x600 pixel. Riscrivo la parola in inglese del mio servizio, scelgo un'immagine che mi aggrada, anche questa può andare. Poi andiamo in basso e clicchiamo su I want this. A questo punto che cosa vuol dire? Che sotto al nostro annuncio per acquistare da parte degli altri troveranno scritto voglio questo oppure voglio acquistarlo o semplicemente paga. Ci sono tre modi di dire che comunque hanno come riferimento sempre la stessa funzione, ovvero quella di acquistare. Io inserisco semplicemente paga che è pay. Su summary possiamo scrivere che acquistando questo tu riceverai un consulto di cartomanzia, nel mio caso, oppure nel vostro caso acquistando questo riceverai un ritratto digitale creato appositamente da me. Qui potete aggiungere altri dettagli, ma non ve lo consiglio. Al resto invece potete andare direttamente giù lasciando tutto così com'è e cliccando in alto su save and continue. Qui lasciate got it, save and continue, save change, publish and continue. Se vi appare questo errore dobbiamo andare sulla nostra email a confermare l'account. Perfetto, l'ho appena fatto, sono andata sull'email e ho cliccato sul sito che mi hanno inviato per confermare il mio account. Ritorno sull'annuncio di prima, stavolta posso cliccare su publish and continue e a questo punto ragazzi ci appare scritto pubblicato ma in inglese. Per ritrovare il nostro annuncio e comunque condividerlo agli altri, qui come vedete vi appare scritto share. Quindi clicchiamo su copy url e lo mandiamo agli altri. Lo possiamo mettere sui nostri stati di Instagram, di Facebook o inviarlo direttamente tramite messaggio privato a vostro piacimento. Adesso come vediamo il nostro prodotto andiamo su products. Clicchiamo sull'immagine del servizio che vendiamo. Sulla destra dove c'è scritto preview, su questa freccetta ragazzi, verremo renderizzati sul servizio che offriamo come vi dicevo prima. Quindi abbiamo l'anteprima con immagine inerente a quello che offriamo con sotto la descrizione, il titolo e il pulsante paga. La gente che acquisterà cliccando su paga avrà questa interfaccia qui, sempre in inglese, dove dovrà inserire la propria email, la città e cliccare su paga. Si può pagare con carta o con Paypal. Come funziona il pagamento? Quindi quando la gente acquista, quando potete prelevare i vostri soldi, dovete andare su payouts. E qui ragazzi vi appare scritto che per poter risquatere i vostri soldi dovete raggiungere 10 dollari. Vi assicuro che fare 10 dollari è veramente semplicissimo e anche in maniera veloce. Quindi tutto quello che dovete fare è sponsorizzare il vostro articolo, mandando il link agli altri. Una volta che raggiungete 10 dollari potete prelevarli, fare richiesta e farveli inviare sull'account Paypal, oppure inserendo i dati della carta. Ma io vi consiglio più Paypal per una questione di sicurezza e comodità. Potete inserire tanti prodotti, tutti quelli che volete, sempre andando su Products. Nel caso in cui non trovate più questa pagina, perché magari avete cliccato sulla X per sbaglio e avete chiuso il sito, basta semplicemente ritornare sul sito che trovate sempre in descrizione, fare l'accesso e vi reindirizza direttamente qui. Oppure in caso contrario, inserite sulla barra degli indirizzi app.gumroad.com. Comunque ho appena notato che volendo, andando su settings, è possibile in basso andare a cambiare il linguaggio del sito. Quindi impostiamo italiano, sell in impostiamo euro e andiamo a fare update settings in alto. Aggiornate il sito qui in alto su ricarica questa pagina ed eccoci qui con la lingua completamente in italiano. Ragazzi, che dire, io ho trovato un sito meraviglioso, gratuito e che mi permetterà di fare le mie vendite gratuitamente. Più contenta di così non si può davvero. Io spero di avervi aiutato. Se volete lasciate un like. Vi saluto, ciao e alla prossima da Merilite. Grazie a tutti.